Presidente, non si parla di calcio, qui c'è forte tensione tra Italia e Francia in ambito fieristico. Che cosa sta accadendo? Padova Fiera S.P.A. sono circa sei mesi che non paga l'affitto, quindi è da gennaio che i canoni non vengono onorati. Noi abbiamo più volte rivolto a Padova Fiera S.P.A. mediante raccomandate, mediante PEC, mediante mail. Abbiamo inviato richiesta di onorare questi canoni di locazione, poi abbiamo presentato loro una diffida da dempere entro 15 giorni, anche questa puntualmente è rimasta inascoltata e quindi abbiamo proceduto con decreto ingiuntivo. Il giudice del Tribunale ha analizzato le carte e quindi l'ha accolto e ha reso questo decreto ingiuntivo immediatamente eseguibile. E quindi noi abbiamo poi, come dire, provveduto ad un atto di pignoramento verso terzi perché la nostra responsabilità è quella di rientrare immediatamente di questa cifra che si aggira appunto attorno al milione di euro, perché siamo una società pubblica quindi siamo, diciamo, assolutamente sottoposti al rigoroso controllo della Corte dei Conti. Voi vi siete impegnati anche con il centro congressi, ma dovete pagare i mutui alle banche. Qual è la situazione? Beh, Padova Fiera Immobiliare non ha la possibilità di pagare entrambe le cose. Ha accantonato una cifra di circa 20 milioni di euro per realizzare questo fatidico centro congressi, un'opera pubblica veramente importante, ma non c'è la possibilità di pagare anche i 24 milioni di euro, che ovviamente sono indispensabili per pagare il mutuo dei capannoni nuovi. Quindi è evidente che se Padova Fiera S.p.A. continuerà a non pagare gli affitti, insomma i risvolti saranno veramente molto molto seri. E quindi noi ci aspettiamo che ovviamente i francesi rinsaviscono, si rendano conto che c'è un contratto da diciamo onorare fino al 2036, e quindi paghino i canoni che noi ovviamente abbiamo la necessità di riscuotere.